story time evoluzione radio un mondo di favole tutte reali perché è la vostra storia ma soprattutto è la vostra vita io sono Stefano e oggi sono in compagnia di Annig che ci parla della sua attività buongiorno a tutti che bello sentire che si può raccontare una storia di un teatro di un'attività che è un'attività artistica, sociale, comunque l'attività culturale lo è in generale allora noi siamo un teatro in Milano, il Pacta Salone diretto appunto da Pacta dei Teatri che è una compagnia sorta un po' di anni fa dopo vicende alterne dove ci siamo separati da un altro teatro e abbiamo deciso di partire nomati e alla fine dopo un'avventura al Teatro Oscar di Milano siamo approdati a quello che è la nostra perla, la nostra gioia, la nostra bella storia cioè il Pacta Salone che è nel municipio 5 di Milano è uno spazio molto particolare prima di tutto è uno spazio sperimentale che abbiamo ristrutturato con amore e rimesso in pista era uno storico spazio dove ha gravitato tantissima sperimentazione all'epoca ancora del centro di ricerca teatrale CRT che poi si è trasferito e l'ha lasciato in abbandono ora negli anni venne sempre richiesto a un teatro di adeguarsi alle norme di sicurezza quindi abbiamo fatto tutto quanto necessario, questo nel 2016 per rimetterlo in funzione, per ridare un teatro alla città la proprietà è città metropolitana, infatti siamo dentro a un complesso molto articolato che è il centro culturale Puecker dove ci sono tre istituti scolastici quindi 4.500 studenti che viaggiano, auditorium, associazioni di volontariato di vario tipo centro campo sportivo, quindi è come una sorta di campus americano perché ci sono tante cose dentro e uno di questi è il teatro che anticamente era la mensa e infatti è uno spazio aperto, anomalo perché è tutto un grande spazio agibile come tutto un grande palcoscenico dove c'è appunto la parte del pubblico che però può essere anche mossa perché è tutto attrezzato quindi fra eventi particolari e anche spettacoli che usano in maniera alternativa diversa dalla solita teatro all'italiana che è il palcoscenico separato dagli spettatori noi possiamo muovere lo spazio come vogliamo, è tutto agibile siamo per di più in una zona che è di fianco a un grandissimo parco il parco agricolo del Ticinello quindi nella bella stagione è anche piacevole perché venendo a teatro prima o dopo uno può farsi anche una passeggiata nel parco che è abbastanza insolito insomma per Milano ci sono anche le cascine con le mucche, il latte insomma è comunque un teatro in cui ferve l'attività abbiamo un'attività molteplice se vuoi che parli ancora di questo? no no raccontaci un po' appunto del teatro adesso fate una stagione sì, allora abbiamo una stagione di con la programmazione di ospitalità, cioè compagnie che vengono da tutta Italia poi le nostre produzioni tutto è concepito secondo una suddivisione per progetti o cantieri tematici vale a dire viaggiamo dagli storici scienza in scena a donne teatro diritti sui diritti umani alla vetrina contemporanea a New Classic che riprende tematiche classiche ma riviste con l'occhio dell'oggi contemporanea a Pacta Soundzone che è musica sperimentale a... cosa è che abbiamo ancora? il... ah sì, importante, da due anni apriamo le gabbie che è sorto come idea durante il lockdown è una rassegna di danza sperimentale e multimediale è una rassegna che raccoglie tante compagnie di danza italiane e non che vuole dare spazio siccome questo palcoscenico è particolarmente adatto per la danza a nuove realtà che si sperimentano attraverso questo linguaggio apriamo le gabbie perché è nato praticamente durante il covid e quindi con questo desiderio di fisicità, di contatto ovviamente all'inizio ci sono stati dei problemi perché la danza prevede un grande contatto fisico e ancora non era permesso avere questo anche noi che pratichiamo più la prosa diciamo noi come compagnia Pacta dei Teatri a volte abbiamo dovuto usare la mascherina che è ridicolo poi hanno modificato le regole per cui con un certo distanziamento si poteva fare esatto quindi questa è anche una rassegna molto importante che ha avuto una bellissima risposta del pubblico quindi i nostri spettacoli sono all'interno di questi progetti tematici che scorrono durante tutta la stagione e nei quali si possono ritrovare anche oltre agli spettacoli interventi, dibattiti ci sono anche, cioè è importante anche un discorso sulle mostre al cubo noi abbiamo due foyer uno grande al piano superiore che permette anche di ospitare delle mostre di artisti quelle temporanee però abbiamo anche due opere d'arte di un artista che è Ernesto Iannini che ce l'ha fatto proprio side specific per noi per il Pacta Salone e allora io ti chiedo noi dove possiamo seguirti e contattarti per non perderci neanche un aggiornamento e tutti gli eventi combinati allora il nostro sito è www.pacta.org il nostro indirizzo comunque è via Ulisse Dini 7 a Milano Pacta Salone poi abbiamo i contatti Facebook e Instagram Facebook è Pacta dei Teatri invece Instagram è Pacta dei Teatri Salone tutto attaccato questi sono i contatti dove possiamo seguirti e contattarli in Pacta giusto? sì esattamente perfetto allora invito naturalmente tutti i amici ascoltatori di Radio Story Time a farlo perché l'iniziativa del teatro è sempre meravigliosa è tutto naturalmente quello che fate con l'arte io ti ringrazio di cuore per questa bella chiacchierata per averci aperto il tuo mondo e ti auguro una piacevole giornata grazie, grazie a tutti grazie ben amici di Story Time la chiacchierata è appena finita e fra poco ne inizia una nuova non perdetela Story Time Evoluzione Radio